Capiro d'oro che è arrivato proprio ieri 15 dicembre 2022 all'attuale sindaco di Milano Giuseppe Sala detto Beppe il quale si è vi ricordo battuto per andare a tenere i riscaldamenti bassi quando invece ci sarebbero circa 25 gradi o poco più a Palazzo Marino e quindi accetta di buon grado il bel Tapiro d'oro che il simpatico e meraviglioso Valerio Staffelli il Tapiro fa per eccellenza gli va a consegnare nelle sue vive mani non è una persona che opprime se stessa o comunque arrabbiata anzi è tranquilla e serena e ovviamente va a ricevere il Tapiro d'oro senza male e senza difficoltà risolta vi ringrazio per l'ascolto dunque un bel Tapiro d'oro per Beppe Sala l'attuale sindaco di Milano e il città, capoluogo della regione Lombardia ciao da Leandro, un narato italiano e comprenuto in Beppe Sala in realtà il Tapiro fa per eccellenza